Posso dire quale miglior intro? Se non il silenzio. Esatto. Per chi ci può vedere, se non... Raga, ma che cos'è? Queste splendide tazze. Per chi ci ascolta e basta, vedrete una novità. Intanto Bulbasaur è stato disperso. Cioè, nel senso, esiste, ma è in ospedale. Perché è in reparto di animazione, perché ci ha avuto un attimo un collasso. Posso dire, però, nell'ospedale per le piante, la cosa più brutta è se te fumano. Vero, esatto. Non l'abbiamo fumato, Bulbasaur. È vivo, dobbiamo solo aspettare, è in convalescenza. No, l'ho cercato, raga, però chi lo pianta? Più che altro se l'ha cercato tizzi, controlliamo che non è veramente fumato. Bulba. Quindi, dicevo, per chi ci sente e basta, c'è una novità. Perché non c'è Bulbasaur, ma ci sono due pezzi di arredo, di design. Made by Kristen Krasn. Questa è un'artista polacca, che però tradotto in italiano ho scoperto che si dice tizzi crepi. Vero? Non lo so. Perché comunque è polacca. Perché al nord, siccome fa freddo, dici tizzi... Pensavo fossi della Mongolia, invece... Sei un coglione. Abbiamo queste splendide tazze che speriamo diventeranno magari il merch di Bob. Esatto, sono brandizzate anche con il nostro nome. Perché ho lanciato uno sputo, ragazzi. È arrivato sulla luna. Speriamo... No, non speriamo niente. Ci sono anche i nostri nomi perché noi facciamo le cose brandizzate. Per adesso soltanto nostre. Però ecco, se non le potete vedere ve le riscriviamo. Sono delle mag. Perché io queste le intendo tipo mag, capito? Cioè, dove dentro ci metto tutto quello che devo fare a microonde. Sì, sì, è esattamente quello. Quindi ho il mio piccolo dolcino tierdo. Sfizioso. Sfizioso. E in color porcellana. Giusto? È bianco. No, è un color bianco con un'immagine iconica del di Bob. Nel caso mio abbiamo una petta, se vi ricordate, che Alessandro ci ha insegnato a impollinare. E di là invece ho la pasta del lunedì. Che poi sono proprio spaghetti al pomodoro che è proprio quella che è. Mio sogno è vedere lo stand, quello verticale, con tutte le tazze appese, storte, così anche un po' impolverate. Perché comunque siamo in uno store pieno di negozi, di clienti, di negozi. Con però tutti i nomi dietro. Cioè che tu per ordine alfabetico c'è, che ne so, Beniamino, Carlo. Nello store... Pamela. Nello store però voglio solo tipe che si chiamano zizi. Cioè sono tutte zizi. C'è una zizi? Tipo sai le Scream Queens che c'è Chanel numero 1, Chanel numero 2, c'è zizi numero 1, zizi 2. Ti prego. Ok, e anche questo è il brand. Frequenterei questo negozio. L'ora esatta è offerta da Sandro. Bob, il podcast. È quella chiacchierata tra amici nel bar di una vita. È quando il dovere ti mette in moto e la vita si incasina e tu vorresti solo staccare la spina. È quella finestra sul mondo dove puoi guardare o essere guardato. È quel bicchiere di vino che ogni tanto ti concedi ma che in compagnia ha tutt'altro sapore. Io sono Sandro. E io sono Lele. E questo... Questo è POV. Il podcast. Ma ancora, me lo ripete. Oiii! Oiii! Come fai? Guarda, posso dire un pochino contro il clima? Perché erano due giorni che l'Ecoansia mi aveva fatto un attimo rivivere le esperienze di una Bora Bora improvvisa. Adesso la Bora è diventata la mossa di Pokémon perché è un phrasing. E quindi che cosa torna? Il maglione di necessità. È vero. Ci siamo guardati e abbiamo detto oggi, fotte sega del fashion carnefice, vogliamo solo essere coperti. Anche perché noi siamo le vittime. Il totale. I boni. Beh, posso dirti, un bono della Zizio me lo porto a casa. E allora, nella speranza che non mi vengano i geloni, perché... I zeloni. I zeloni. Hai ragione. Perché più fa freddo... Ma come parla? Mi insegni sempre qualcosa. E zeloni, comunque voglio che sia la crema brand di Bob. Zeloni, la crema per i geloni. Tipo, via i zeloni la potremmo chiamare. Ma ragazzi, ma oggi mi state sfornando idee? Stop zeloni. Chiama Elon. Chiama Elon. Ma più che altro, a questo punto, la fugazzi, l'essitista cinica, perché magari un cnacolab... Ah, ma tu sei la mia luce liquida. Eh, totale. Ricordatelo sempre, sei la mia luce liquida. E allora, oggi è una puntata di Poterino Zaverlo. Yes, è iniziata la settimana, così un po' lenta, noi siamo lenti. Ma ci diamo noi un'accelerata proprio col Poterino Zaverlo. Esatto, diciamo che ciò che stiamo per dire è un po' il nostro Budka se fossimo in Crash Bandicoot. Quando lo mettiamo, ci mettiamo la maschera e partiamo in quarta. Cosa dice? Amo! No, no, aspetta, aspetta, no, come si chiama il coso? Il Budka. Crash Bandicoot. Sì, no, si chiama... La maschera. Io ho sempre detto Budega. Budga? Perché io l'ho sempre detto Budga. Poi sono io quelli che vince a di Ascoli Piceno, il Budga. Non so come si chiama. Una crema spalmabile di Ascoli Piceno. Ma ti piace il Budga a te? A questo è un cazzo di Buda, first. Budga. Mi piace? Ma no, torniamo a quello che va detto. Cioè abbiamo una formula mazzica. Esatto. Meglio. Che sia più gutturale o glottonica. Amo. Insegnami la parola magica. Amo. Che suz. E allora... Tocca... Vedi? Ma perché è la nostra parola con le zeta. A posto di non ho mai nominato così tante zeta. Nomi cose città da ragazzini. Cimbauriva. Zebra. Zaino. Zurigo. Adesso che suz. Esatto. Allora, tocca a me, giusto? Zattera. Allora, tocca a me... Zircone. Eh? No, dai. E anche Zanzibar. E voglia di cioccolato. Zizzagna. Ti metti a te l'acidità ormai, Anna? Certo, il cioccolato. Ma perché l'associato cioccolato e Zanzibar? Perché Zanzibar si fa il cioccolato a Zanzibar. Mi sa che c'è il torrone Zanzibar pure. Così di Natale. È una di quelle cose che mi mette più acidità da quando so ormai over 25. Cioè tra sugo, eccetera, io so che se mi mangio della cioccolata c'ho l'acidità assicurata. Beh, a latte? No, proprio la cioccolata in generale. La cioccolata a me mette acido. Quella fondente io top. Latte dipende. Perché tu non sei un essere umano, ma l'abbiamo capito, perché mangi la cioccolata fondente. E tanti legumi. E polifenoli attivi. Allora, mi porto lo schema di quello, il nostro gobbo, il leggio. Perché bisogno di legge orgiudunque. Ma infatti, no, ma chiediamo un attimo. Ma come chiamate voi questo attrezzo che usano nei programmi? La sua è. Voglio saperlo, ragazzi. La cartellina. Grazie, a me viene da dire la cartellina. Però per me la cartellina è quella che contiene, secondo Daniele. Per me la cartellina è quella di plastica. Questo è un leggio. Ora, non lo alziamo perché fa impressione il dietro. Però ragazzi, quello insomma, quella graffetta che tengono anche... Questa era nelle mutande di Ale. Questa era un attimo tirata. Ah. E... Però ecco, come cazzo si chiama? Sondaggio. Ditecelo ragazzi, sono curioso. Esatto. Tanto ci abbiamo. Alex tipo ce lo dirà sicuramente. Totale. Ciao Alex, che ci dice sempre le parole. Chissà sia dall'antica Roma, poi. Chiamiamo. Lo usavano già. Allora, comincio io. Io ti racconterò, vi racconterò una storia oggi. E non mi va... Dato che la cosa di Magnus Carlsen mi ha fatto vedere che se tu confessi il plug alla fine del discorso, vedrai che Sandro me lo fa un bel sorso della cosa. Quindi ho detto, la faccio anche io schematizzata, cioè la faccio in divenire. Allora, vi do un quando, un dove e un chi. E così partiamo. Il quando è nel 2019, quindi facciamo un attimo un throwback to. Torniamo indietro, pre-covid. Io facevo ancora un po' la matta a Roma, non mi interessava della vita. Sì, sì, mi sa che era a Milano. Sì. Sì, sì, però fece un sogno dove era qui. Verissimo, verissimo. Martina è in Cile. Eh? Sono incinta. Ti giuro, pensavo anche a me stessi dicendo incinta. Ho detto, che è che non so. Eh? Cazzate, dove è venito? Io credo, perché non si sa mai. Io ho credito. Il dove è a Natick, in Massachusetts, Stati Uniti. Quindi Boston è la nostra città preferita. Ci trasferiamo lì. E il chi è una coppia dal nome Ina e David Steiner. Che si scrive Steiner, però parlando e googlando, dato che Einstein, si dice Einstein, dovrebbe essere la coppia Steiner. E quindi lo ripeteremo più volte. Allora, scopriamo meglio un po' qui questa coppia. Ho pure cercato come si sono conosciuti, amori. I segni di regali li hai cercati. Eh? I segni di regali li hai cercati. Non l'ho trovati. Non è così facile. La gente non mette così facilmente la sua data di nascita. Vaffanculo. Noi, la prima cosa che... Io su Facebook avevo il numero di telefono. Non ci vedo. L'ho dovuto togliere. Non ci vedo. Lui preda, comunque. Problematico. Come è esistito fino adesso, non si sa. No, ma io credo, nessuno l'ha mai usato. Era il 2000... L'avevo lasciato là, il mio numero è privato, un po' per farmi un po' una flirting. Nessuno mi ha mai iscritto, l'ho trovato su Facebook. Era il 2010 quando Daniele con la madre, non capisco, mi chiamano questi centralini. Daniele, ti starei iscritto a qualcosa? No, non ho mai fatto niente. Inserisci lì, banni tua madre. Allora, scopriamo un pochino meglio la coppia Steiner, ok? La coppia Steiner si incontrano negli anni Ottanta, da quello che mi ricordo. Carini, si amano un po' da subito, si volevano. Ina, da quello che ho capito, era un po' più quella che si era un po' innamorata a primo sguardo. Lei è una Steinerina. Una Steinerina. Nel 1999, un pochino presaggendo quelli che sarebbero stati poi i tempi, i due mi aprono un sito web, che dovremmo intendere come una newsletter barra blog. Ok. Questo sito web... Adorerei. Adorerei. Top. Anche nel 99 aprirei un blog. E-commerce Bytes, o inizialmente si chiamava Auction Bytes, è una newsletter che era una sorta di, offriva consulenza per tutti coloro che nel 1999 si approcciavano per la prima volta al mondo dell'e-commerce. Cioè, oggigiorno, Amazon è un attimo, c'è la prima cosa che pensi, lo fa un regalo, vado a comprarlo online. Nel 99... Porca miseriazza, non ti dice... No, no, no. Sto scherzo, sto scherzo. È vero, non lo fate nei giorni festivi. Porca troia, Sandro ci ha insegnato questo. L'agenda ha da riposare, però se è il 24 di agosto, magari vi va, c'ha capito? E quindi, stava di Cinzia, Ina e David ci insegnavano un pochino a utilizzare il e-commerce nei primi passi. Nel corso del tempo, questo sito è diventato sempre più importante, non tanto per tu che acquisti, ma per te che vendi. Perché ricordiamoci, anche Amazon non vende spesso prodotti suoi, ma una buona vendita di un prodotto per cui Amazon si incarica di fare da tramite tra acquirente e venditore, acquista lustro se il prodotto è buono. Se io acquisto una buona borsa di pelle, anche se non è targata Amazon, però Amazon ne guadagna, perché vai su Amazon. È che non vende sogni, ma solide realtà. Bravissimo. Mondial casa. Ma è Mediolanum. A Varese andavano sempre un pochino in anticipo quelle pubblicità. Anche ci metti la M e pensano sempre... E poi la sigla di Pog, ogni tanto ci accorgiamo che il sottofondo è sulle pubblicità di YouTube. Nel senso, più o meno quello è il mood. Che cosa succede? All'interno di questo sito web, che è una questa newsletter, diventa sempre più importante per i venditori, perché trovarsi lì era un'opportunità per farsi vedere. Una vetrina. Ma questi due, Ina e David, non erano soltanto dei titolari di questo sito web, erano anche dei giornalisti. E quindi, oltre a farmi le recensioni, mi cominciano a fare anche qualche critichella, che, diventando il loro sito importante, diventa un po' una sorta di sedimentario di tante critiche. Per cui, se tu ti incombi in questo sito, magari diventi un po' influenzato dalle cose che loro dicono di determinati siti. Un esempio è che nel 2019, Ina mi ha riferito che Devin Wenig, che è l'ex amministratore delegato di eBay, guadagnava 152 volte di più rispetto a un dipendente eBayX. Quindi, eBay, che è sicuramente una delle piattaforme che è stata commentata all'interno di questo sito, perché parliamo di e-commerce. E questo era il 99, immaginati per il 2024. No, questo è nel 2019. Ah, 19? Una cosa recente che ti riporto è che nel 2019 lei mi fa questa cosa. Quindi, per dirti, ci sono anche dei post critica, oltre il compra la lampada super top su eBay. Sì, sì, sì. Ok. La storia è questa. Ti torno nel giugno 2019. Quindi ti ho un po' presentato questa coppia e quello che fanno. Nel giugno del 2019, David, mentre tornava a casa... David. Oh, non imparo mai niente. David, tornando a casa, nota intorno alla sua recensione bianca una scritta fatta con uno spray in nero che recitava la parola Fidomaster. Fidomaster era un fanatico all'interno del loro sito web che non era un loro amico, ma in qualche modo supportava la causa di andiamo contro eBay, andiamo contro Amazon, in particolar modo contro eBay, dicendo che schifo, non comprate, hanno ragione questi che fanno le critiche, ma non erano in... Fidomaster è stato il mio nickname in qualche sito, capito? Una volta che conosco Fidomaster. E qualche settimana dopo, l'epistodio in cui David mi ritrova intorno alla recensione di casa, questa scritta con scritto Fidomaster con lo spray, un profilo Twitter, su Twitter, dal nome Tui, trattino basso e lei, scritto in italiano come lo pronunceresti, senza lettere dell'alfabeto statunitense, comincia a perseguitare gli Steiner su Twitter, additando loro la causa di essere un sito che portava la gente a odiare eBay, dicendo che siccome nel corso degli anni avete talmente dato sedimentato informazioni, la gente ha cominciato a odiare eBay di riflesso a causa vostra, perché se io entro su e-commerce bytes, mi sembra come di dove mi senti contro eBay, capito? in qualche modo. Sì, 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 praticamente è Zizi con un suo ex, qualsiasi. Zizi contro Tananai quando non gli ha risposto Alberto, rispondi a questa ragazza, porca puttana. Avete iniziato a dire male di me, adesso non ci penso io. Adesso le palazzine a fogo ce le mando veramente. Nel corso del tempo, questo profilo Twitter, ti faccio degli spoiler, in seguito a dei dispettucci che riceverà questa famiglia, twitterà cose del tipo, ti è piaciuto il regalo, stronza? questo tui trattino basso e lei o addirittura renderà pubblico l'indirizzo di casa della famiglia. Ma da, ma ci hanno fatto un film su sta storia per caso? Un film non credo, The Gift. Sembra la trama di un horror di qualche anno fa. Sì, Sandro è appassionatissimo di horror. Un thriller. Ti dico anche perché adesso è diventata molto risca al cuore. Sì, sì, sì. Quindi è impossibile, ok? Magari lo faranno. Giuro, guarda. Lo faranno. Non molto tempo dopo abbiamo un altro episodio particolare che accompagna questa famiglia. David si trovava di fronte al suo recinto di casa e stava aprendo una bubble envelope. Io non sapevo cosa fosse. La busta. La busta quella con le bolle dentro per metterci i libri. Sì, sì, esatto. L'ho dovuta googlar, nel senso non sapevo l'esistenza di questa bubble envelope. 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 Mentre la apre, cade un libro che la cui copertina è una foto di petali di rosa accartocciati come copertina con scritto Grief Diaries sopravvivere alla perdita del coniuge. Ragazzi, questo qui è un altro libro di Sandro. Dunque! Ma amerei! Cioè, mentre lui stava aprendo palesemente poi con le rose con le rose posso ditte ci danno la fissa armonica in sottofondo se è veramente il libro di Sandro. La suonata del male La ballata La ballata Tarandello. Quando mi dipingete come la cattiva raccontate anche il capitolo dove mi avete inventata. Faranno una serie Netflix su di te, Ale, c'ho paura. Città, non è mia. David comincia ad avere paura che qualcuno voglia coppa la moglie. Perché comunque la moglie si era dimostrata propensa a fare critiche sul suo sito magari anche David. Però Ina comunque si era mostrata un pochino non ha i piani alti di Amazon e me li fai un attimo per pepare il culo. E David comincia a pensare mi inviando un libro che ho scritto come sopravviva al lutto dell'amore del partner un pochino mi sto cagando addosso. Nell'agosto 2019 quindi qualche mese dopo succede una cosa ancora più divertente che chiameremo il mese delle newsletter. Cioè loro si rendono conto che qualcuno le aveva iscritti a 50 newsletters tra cui te ne cito alcune notizie sulla sindrome dell'intestino irritabile iscrizione al tempio satanico e newsletter della Sin City Fetish Night. Ale quando hai aperto questa cazzo di newsletter? Allora ho avuto un passato con le newsletter. Tu lo sai la ragazza vestita in pelle ti chiamavano infatti mi ha rubato la giacca di pelle me l'ha presa lui perché si doveva vestire tutto in tinta. Che bella quella giacca. Vogliamo aprire la newsletter The Pop da una vita e mi fai quella della Sin City Night. Sin City Night Traff get my sempre nell'agosto 2019 succede un altro episodio cardine mentre lui si trovano a casa ricevono una mail che conteneva come oggetto pacco bagnato pacco cioè campione bagnato umido e c'era scritto volete accettare? I due si incuriosiscono e chiamano ma porca miseria ma che cazzo fai? chiamano la ditta che gli aveva inviato questa mail dicendo vuoi accettare questo pacco bagnato ma io spam chiamano no amo io curiosissima come ti posso dire? pacco bagnato pacco fortunato mi sa che anch'io avrei un po' accettato l'acqua ma anche sulla chiamata no noi non l'hanno accettato loro hanno chiamato ok hanno chiamato il sito della mail con scritto arriva un pacco bagnato vuoi accettare hanno fatto ragaz scusate ma che cos'è e loro con nonchalance gli fanno guarda è un feto di maiale imbalsamato in formaldeide lo vuoi? ma chi è che me l'ha ordinato un feto imbalsamato in formaldeide ma è imbalsamato perché è bagnato? eh perché voleva qualcuno voleva evidentemente dargli una paura un duosque no? nel senso non duosque non duosque è un terreno e che fanno? decidono finalmente dopo due mesi che ricevono queste scaramucce di chiamare la polizia ma è arrivato il pacco bagnato aspetta chiamano la polizia chiamano la polizia e di Natik quindi del posto la polizia va lì e cercano di ricondurre un attimo i vari indizi per capire comunque c'è qualcuno che vi sta tenendo di mira chi può essere chi non può essere non riescono quel giorno ad arrivare ad una soluzione ma un aneddoto cardine di quel giorno ti dimostra che il pacco bagnato non era quello ma ne è uno che sta arrivando adesso perché mentre la gente va via di casa dopo che ha parlato con la coppia dicendo gli amo qualcuno gli fa un po' di rispetti vediamo un attimo di capire lui stava uscendo arriva un pacco lo lascia Ina mentre il poliziotto e David continuano a chiacchierare dopo poco sentono delle urla risperate era Ina era Ina corrono da lei e dentro al pacco trovano una testa di maiale insanguinata era quello il pacco bagnato ok mentre il fetus era un altro evidentemente acquistato all'interno della stessa azienda che mi vendi il balsamato ma anche quello un po' più fresco certo sì il pacco asciutto lo chiameremo il pacco asciutto mi ci chiamavano a me a 19 anni quando ero un po' restito no ero restito a darla ero asciuta fica di legno e ascoltami ascoltatemi che succede l'agente io l'avrei chiamato agente aiuto va lì va con la mi sono disvenuta anche la gente lei non comprende sono due cose che voglio dare nella mia vita c'è un dottore in sala e agente quando l'avrò fatto potrò essere finalmente la desperate housewife che merito ah lo mettete in fila io agente l'ho detto a Miami quando mi stavano per sparare l'ha detto a Miami quanto è cool però ha detto agente tutti ah c'hai capito italians i ciascini those italians si scopre essere in realtà il poliziotto andandola a toccare scopre che è una maschera di saw non era veramente una testa insanguinata ma questa cosa li manda ufficialmente nel tracollo psicologico e inizieranno quelle che io ho definito le due settimane alla della sto base cioè loro si chiuderanno dentro casa andranno talmente tanto in panico che si chiuderanno dentro casa andranno a dormire in due stanze separate con l'intento del se qualcuno entra per ammacchere a coppacce io ti sento urlata all'altra stanza Maria De Filippo e Costanzo avevano fatto la stessa cosa ma infatti avevano sempre macchine separate Maria la chiamavano Ina ai tempi non era Steiner però ce l'ha avuto il suo passato che lui diceva le cose spinose il suo passatina il suo passatempo e cominciano a a dormire con mazze e roba sotto il letto e addirittura cominciano queste cose alla mamma ha perso l'aereo cioè Ina e David mi cominciano un pochino ad andare animato e cominciano a mettere le pentole sopra alla porta del retro così se qualcuno entrava faceva effetto rumore e tu sapevi che qualcuno stava entrando nel senso ma fattici una frittata e fai rumore qui esatto tanto è che il primo che arrivò fu Diodato che tutti dissero ma dov'è Levante? secondo me ce l'ha la faccia da quello che comunque magari un po' ti ammazza la fine capito? che nasconde qualcosa e non lo posso sopportare amo non lo posso sopportare e addirittura David si comincia a svegliare ogni due ore per controllare le due precedenti ore di registrazione delle telecamere di sorveglianza ma infatti è Daniele quando è sotto pressione per pove Zizi in un normale venerdì ma soprattutto è come vivere la giornata di 24 ore perché tu rivivi due volte le ore passate tu vivi una giornata che ne ha 48 e arriva addirittura una catena di sexy shop li chiama contattandoli perché un anonimo l'aveva inserita all'interno di una lista preferenziale per coloro che volevano aprire un franchise di quella linea di sexy shop all'interno di quella città quindi qualcuno aveva cominciato a fare mille di spettucci che caso sono originalissimi questi te posso dire addirittura il giorno dopo del sexy shop chiama scusa arriva un pacco dalla Carolina Biological Supply che potrebbe essere una drag qualsiasi o un qualsiasi cesto in Thailandia contenente i testi di qualcuno che ha fatto la sua scelta che ha sempre voluto chiamano la polizia a quel punto perché dicono io sto pacco non lo voglio aprire cioè fino a mo sto fatta a fare i tuoi adesso non voglio vedere che premio ci sta dentro e voi l'aprireste il pacco numero 10 del Molise contenente chissà cosa Carolina dicelo tu più caldo Carolina Biological Supply Biological ti giuro ma mi sta mettendo un'ansia esatto cosa cazzo è quel biologico vuoi scoprirlo sai che c'era dentro larve mosche e ragni vivi vivi latte ragni moschi e larve vive cioè ti rendi conto questa immagina capito la tazza con i cereali ma al posto dei miel pops c'è stanno i ragni capito il giorno dopo questa cosa della Carolina Biological Supply arriva una corona funebre addirittura una di quelle corone fatte per i morti capito che si vengono da tomba quella per la laurea però non è quello il traguardo di vita e che cosa è successo riescono ad intercettare il fattorino dicendogli amo mi chiede che te l'ha data e lui ha fatto avevo l'ordine di metterla nel retro e andare via senza suonare perché mi avevano detto che ci stava un lutto quindi perché non questi si sarebbero svegliati con la corona fuori capito un po' pauruna pauruna mettetevi contro di me vi giuro va arrivare una tazza di cereali con i ragni si spalese addirittura i due cominciano a attuare il loro stile giornalistico perché ricordiamoci che erano giornalisti quindi cominciano a scendertarsi per capire ma o non riescono a rintracciare gli indirizzi oppure le aziende che hanno spedito loro le cose si fanno appello sulla privacy per impedire loro chi gliel'avesse detto di mandare a loro quei regali quindi loro cominciano a pensare secondo me o è qualcuno che ci conosce o è qualcuno di grosso perché se Alessandro von Coppari decide di farci uno scherzetto e quelli leggono che è Alessandro Coppari chiama a Tizzi e fa è stato lui se invece ti metti contro Obama magari Obama c'ha i soldi per metterti un pochino a insabbiare cose lo fa fare ad Alessandro von Coppari magari Alessandro Borghese scelgo tu quale delle due i pacchi continuano ad arrivare addirittura arrivano riviste porno a nome di David ma con l'indirizzo del vicino e Ina racconta questa scena imbarazzante del vicino che gli porge il pornazzo gli fa di tuo marito però si vergogna e lo me va a spedire a casa mia perché hanno cominciato non soltanto a farli impauri ma volevano anche gli fa di svergogna e come dice la canzone tutto il vicinato ascolta il repertorio e amo che repertorio e tu cosa manderesti al vicinato di qualcuno che odi pure io però cose gay è ancora imbarazzante tipo a zizi gli mando Suffick Party cioè Suffick Party con scritto Ziz and Graspen proprio gli arriva sicuro arriviamo a un episodio cardine l'episodio che io chiamerò l'episodio della macchina ok allora David decide di chiamare un suo amico e gli chiede di depositare e lasciare fissa una macchina di fronte al loro dialetto scoraggiando tutti quanti quelli che portavano i pacchi di portargliene ancora non so come è fatto il dialetto loro però a quanto pare una macchina era necessaria o sufficiente per scoraggiare chiunque fosse venuto a consegnare i pacchi nel dire ma chi è sto coglione che lascia la macchina e così mi impedisce di arrivare a casa loro ok io me la immagino tipo i suburb americani magari messa proprio davanti la porta una cosa così pure il dialetto famoso di San Andreas ricordate il gioco che è tipo circolare brava brava si 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 comunque stiamo in America quindi che ne sai magari cioè nel senso accendo buchi ti avrei detto amo che cazzo vuol dire magari là c'ha più senso per fare questo però David fa l'amico ti riporto io a casa mentre va mentre tornano a casa si rende conto che un sub nero li stava seguendo e lui fa l'amico potresti non crederci ma siamo pedinati ora David se tu chiedi all'amico tuo di lasciare una macchina di fronte al vialetto perché non dovrebbe crederti che hai un'altra psicosi cioè quello già si è visto l'amico che gli fa mettimi la macchina di fronte al vialetto ma che vuol dire non già senso cominciano a fare zig zag cambiano strada no fanno quelle cose che farei in macchina continui dicendo di ale gira e tu mi fai ma non dobbiamo andare là si do gira l'amico a un certo punto che a quando pare è cresciuto a pane totally spice secchi impossible gli fa amo fammi scende di botta in questo vi ha detto che l'abbiamo un po' separati pedinati così appena loro riarrivano gli faccio la foto alla targa ma amo ma che pao cioè io non l'avrei mai fatto io nemmeno io avrei detto comincia a scappare e via invece l'amico a quando pare che mi ha visto un body castle si è fatto scende dalla macchina appena l'avevano un minimo seminati e si era messo pronta a fare la foto capito il punto qual è no la foto la farà ma purtroppo non farà una foto abbastanza leggibile affinché per capire le lettere la questura di New York immagina perché si scopre che la macchina targata New York gli ipotesse da tutte e dieci le targhe che corrispondessero fino a un certo punto a quella che avevano trovato perché tu immagino su dieci numeri combasciavano otto e dove hai altri dieci numeri con le altre due cose mancanti certo sì e quindi quello gli ha fatto guarda io non ti posso dare dieci targhe qualsiasi un conto è che mi trovi proprio quella targa qualsiasi non te la posso dare e nello stesso nello stesso momento scoprono che su craiglist avevano messo un annuncio che casa loro fosse una casa dove si poteva scopare senza bussare e scoprono su questo annuncio della via di casa loro con scritto orgiaparti entrate senza bussare no ragazzi io mi sto sentendo male cioè continuano a fargli rispetti comunque cioè veramente sofisticati cioè veramente complimenti no sono curioso e poi quando scelta craiglist ragazzi per forza qualcosa di brutto quando c'è c'è craiglist di solito assassini cioè c'è di tutto veramente qualsiasi roba craiglist è il panico che cosa succede qualche giorno dopo lui completamente scoraggiato decide di dover per forza uscire di casa per acquistare degli alimenti da mangiare perché ricordiamoci che sono ancora nelle due settimane attappati di agosto alla delasto vase loro stanno ancora alla tappati e l'amico che mi mette il coso là e lo riporta a casa è perché mi rende mente mi ha un po' una libra questo david un pochino people pleaser che mi ha fatto mi accondendi la scaramuccia ti raccombagli a casa annuccia che succede esce di casa per fare spesa rivede il sub di nuovo ma a questo punto dice io non sono andata stupida e david riesce a fare le foto alla targa questa volta non vi spiego come perché era un babino grosso così e le porta subito dalla polizia ok e c'è quest'anno dove lui racconta che ha un attacco di panico che gli crollano le gambe dicendogli finalmente ho trovato la targa aiutatemi cioè immagina questo che vive nel panico con Ina da due settimane cioè anzi due mesi due settimane stava dentro casa intanato il giorno dopo il detective chiama Ina e David dicendogli abbiamo trovato qualcosa ma non è niente di che conoscete una una certa Veronica Zea e loro fanno amo guarda è un'africa Zea io qua non so chi sia questa Zea non l'ho mai sentita bel nome però Zea Veronica Zea Veronica Zea non riescono a a a a a fammecciarla con le conoscenze loro però il detective dirà a loro una cosa che sarà poi di fondamentale importanza Veronica Zea a quanto pare lavorava per ebay da vent'anni si scopre questo si scopre che lei lavorava per ebay da vent'anni ok a questo punto nel racconto nell'intervista che ho trovato al Boston quotidiano questo cazzo e praticamente lei dice che nel corso degli anni ebay gli aveva fatto dei rispettucci ma mai eventualmente cose così grandi del tipo gli aveva fatto crede a tutti quelli che frequentavano il sito loro che era un sito di phishing un sito che ti porta a mettere le tue credenziali per fregarti i soldi ma ebay ma che te frega dei e-commerce bytes desti due tipi capito si erano molto incarogniti ma non riescono a collegare le cose e a quanto pare il giorno dopo il detective il giorno dopo ancora chiama di nuovo la famiglia alla polizia e gli fa chiamiamo un po' a Zea chiamiamo un po' a Zea e chiediamo che succede chiama Zea durante la telefonata mentre i detective tutti nella stanza gli stanno facendo un pochino a Zea dici chi sei come mai si è scoperto che questa macchina è intestata a te che c'è lei ha risposto Zea come Zea a chi non entra a Schfeas a chi già trafea a chi non vuole la mostrarmi a Schfea e ha cominciato a ballare e che succede arriva il marito di Zea al telefono che gli prende il telefono come il patriarcato nel quale viviamo e fa potete parlare con me qualsiasi domanda volete fare a mia moglie ve la rispondo io tre secondi attacca il telefono alla polizia amo non alla telecom lui è a cazzo durissimo che dice a me non me ne prega niente alla polizia da questo momento in poi ci sarà uno stop nel senso da ora a giugno 2020 loro non riceveranno più fastidio da parte di nessuno per un po' di tempo loro cercano di mettere insieme gli indizi che avevano trovato ma non riescono a risalire a nessuna a nessuna pista ma loro no ma la polizia sì che per quasi un anno stava lavorando in segreto ma non poteva dirgli nulla a loro perché stavano scoprendo cose molto grevi e solo quando il 15 giugno 2020 accadrà quello che vi sto per dire loro scopriranno tutto quello che è stato diretto la verità nel mentre la polizia scopre che il nome di Zea Veronica Zea era collegato a quello di David Hardville un altro piano alto di eBay a quel punto la polizia in questo anno un pochino tacito contatta l'FBI e la cosa diventa veramente seria federale flash forward 15 perché tutto quello che succede nel mentre non è importante 15 giugno 2020 passa quasi un anno la coppia riceve una telefonata da uno specialista di sensibilizzazione delle vittime del dipartimento di giustizia del Massachusetts cioè una persona immagini stai a beve il tuo latte e caffè e poi buongiorno ah mosso stai male hai letto la storia lei racconta che stavano facendo colazione mi sento male tu vuoi Ina tu mi senti Ina Ina latte d'avena te lo dico io Ina c'ha l'avena nel culo o latte di mandorlina o risina nel senso gli chiama una persona specializzata per per aiutare le persone vittime di importanti soprussi cioè tu ti rendi conto e gli dice ragazzi entro 15 minuti accendete la televisione è perché il procuratore americano del Massachusetts Andrew Lelling avrebbe annunciato accuse penali contro coloro che vi hanno tormentato per tutti quei mesi e loro stavano per scoprire in televisione tutto cioè non è che mi fai una telefonata prima vaffanculo capito? sì quindi loro accendono la televisione all'improvviso e vedono in tv Andrew Lelling che innanzitutto racconta la storia di queste due persone cioè racconta quello che era successo nei mesi precedenti ora io ho pensato solo a Zizi che fa ma come ti permetti? ma totale ma scusami ma io non ti ho mai dato il permesso di fare questa cosa ma raga ma è il Truman Show ve lo dico io cioè Andrew Lelling comincia a raccontare davanti a telecamere e telecamere ragazzi sono sto gazzo e vi racconto che la famiglia Stein ha subito tutto questo e accusa per cyber stalking e cospirazione sei dipendenti di eBay il CEO e colui che è che è lo zio lo zio del zio il zio è colui che l'amministratore delegato delegato e il direttore delle comunicazioni cioè nel senso fa un'accusa pesante cioè praticamente denunciano noi e zitti esatto e che succede? scarica a quel punto la giornalista che comunque stava in vista queste cose scarica i documenti relativi al procedimento penale della questione e scopre una cosa assurda per quanto loro in questi anni avevano molto spesso attaccato eBay perché comunque avevano una newsletter hanno una newsletter dove danno consigli di e-commerce quindi ci sta conguitando una cosa brutta di Amazon di eBay si scopre che a 300 miglia di distanza Devin Venig il CEO era ossessionato da lei cioè si scopre all'interno di questi documenti procedimenti penali che mentre loro stavano ricevendo minacce eccetera stava succedendo il panico dentro eBay e loro erano l'oggetto di questo panico e adesso brevementissimo così concludo vi dico la parte di eBay cioè quello che è successo nel mentre velocissimamente torniamo a 2019 cosa stava succedendo dentro eBay prima che loro ricevessero minacce eBay stava andando malissimo stava andando talmente male che interviene la Elliot Investment Management una società americana di investimenti che acquista il 4% della quota azionaria di eBay entrando come attivista azionista ossia è un azionista che acquista una parte della quota di quella di quella società non perché ne ha una finalità specifica ma perché vuole fare il culo al managing dell'azienda cioè entra come sorta di leading andare un po' come leading ma avete fatto entrare in modo tale che vi possa indicare la renta via e questo comunque è vero eBay l'ha percepito anche io non so se ricordate ma è morto per dieci anni io non c'è zero che zero che zero giusto qualche carta rara di pokemon ci potevi vendere capito bravissimo quelle cose un pochino di nicchia anche perché Amazon e tutto il resto Shane chi vuoi capito per i vestiti non consigliamo che comunque è un po' brutto però ho sentito cose su Shane che non mi sono piaciute che cosa chiede Elliot chiede la modifica sostanziale dell'andamento di eBay e la sostituzione dell'amministratore delegato quindi di Devin Venig ok nel mentre secondo i documenti Venig ormai da tempo nelle mail immagina noi quattro che ci mandiamo delle mail tra amici e tu oltre a dirci le comunicazioni Sandro di POV linki gli haters di POV e i loro siti e fai raga comunque registriamo mercoledì allegato michelina vingenzina che scrive POV schifo e tu che fai sotto ps cogliona questa cioè dentro nel senso fattibile però ho il commento negativo noi su tiktok che riceviamo comunque non è vero della libras comunque noi attaccate leggete raga io smetto domani capito venig a quanto pare mandava insulti all'interno della cricca anche di whatsapp cioè diceva raga domani sveglia le 9 che ci abbiamo è comunque ina stronza per me il gruppo di whatsapp si chiamava tipo abbasso ina abbassina ina ti vogliamo morta e nel mentre venig risultava anche ossessionato da fido master vi ricordate questi sono i due fox ragazzi però nell'aprile 2019 ina come vi dicevo pubblica non solo quello che vi avevo detto del 152 volte il guadagno di venig ma pubblica anche il fatto che l'eliot investment fosse entrata all'interno del settore e fa un post dicendo meno male magari cominciano a essere finalmente persone migliori venig senza saperlo o meglio ina senza saperlo stava alimentando le ansie di venig perché nel prospetto della eliot c'era quello di mandavia comunque ci sta nel senso lui è un paranoico problematico però comunque a livello logico funziona assolutamente e a questo punto cominciano i messaggi tra venig di cui vi dicevo prima e steve steve weimer che è il direttore dell'ufficio di comunicazione di ebay che cosa succede? quello che anche lui sarebbe stato cioè è stato condannato insomma è stato pubblicamente il direttore dell'ufficio di comunicazione esatto a quel punto venig manda il post a weimer dicendogli guarda questa qua che sta a tutti che noi facciamo il cambio di amministrazione e weimer risponde we are going to crush this lady cioè schiacceremo questa signora un mese dopo venig invia un messaggio a weimer con una con una particolare dicitura scrivendo take her down abbattiamola abbattiamola noi cozzizzi quando si ribella cioè se tipo ci manda una grafica un po' che ha fatto come vuole we're going to take her down abbattetela non mi piace via la luce anche perché poi tizia tipo volante quindi la roccia gli fa male a quel punto weimer mette in moto la divisione sicurezza di ebay e entra all'interno di questa di questa storia un personaggio importantissimo jim bau leggi un po' eh non lo so bau scritto bau jim bau capo della bau jimbo che chiameremo jimbo quella di drag race jimbo la chiameremo lo chiameremo jim jim è il capo della divisione della sicurezza che messaggia con weimer dicendogli faccio tutto quello che hai bisogno tu io so il capo della sicurezza se vuoi mondiamo un casino ma lui era una persona molto strana a quanto pare è un ex membro della center intelligence agency cioè una persona che ha lavorato in contesti americani molto particolari con i controcoglioni si ma uno di quelli brutti che per settare il clima al lavoro arrivava con un coltello e lo piazzava sulla scrivania per far capire alle persone intorno guarda che cazzo sono sandro è la cia cia se entra l'intelligence agency l'abbiamo sì l'abbiamo sì allora marty io ti ringrazio meno male sì no ha lavorato per la cia così si capisce o l'intelligence proposto di che colti noi mica diciamo cia diciamo center intelligence agency e addirittura e poi agency adoro io adoro tutto perché voi non sapete che hanno una filiale a Castelfidardo c'hanno buchi c'hanno buchi bravi non devi dire che la cia ci me la cerca scema e a quanto pare la central intelligent action non la cia questa è di parese a quanto pare zea era parte di questo team era beh certo si scopre che zea era parte di questo team e addirittura le donne all'interno le sue donne all'interno del team di gym venivano chiamate le gym's angels cioè per farti capire lui quanto amo noi noi non vediamo l'ora che ci chiamino le gym's angels io sarei una zea top ve lo dico allora velocissimamente vi spiego ma in tre secondi quello che è successo all'inizio del giugno 2019 quindi torniamo quando la coppia ha cominciato a ricevere le prime minacce le prime prime Brian Gilbert un ex capitano della polizia che ora ricopriva il ruolo di senior manager nella divisione sicurezza di ebay quindi uno che ha lavorato col bene che momi stava praticando il male esatto volò dalla California a Boston quando è arrivato ha comprato una bomboletta di vernice spray e ha verniciato Fido Master quindi si scopre il primo coso che questo tipo è mandato da Jim gli fa scrivere Fido Master nelle settimane successive andando in breve sai che cosa accadeva? Jim ogni volta che un membro della sua squadra arrivava a Boston o comunque nelle zone intorno casa della famiglia Steiner giusto? Steiner 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 gli diceva fai quello che devi fare cioè se mi devi andare a consegnare il pacco la fallo però fammi un dispettuccio alla famiglia cioè il mood era ogni qualvolta voi passate lì e alloggiavano tutti al Ritz Carlton Hotel regolo numero uno regolo numero uno fai la consegna numero due dispettuccio a Ina sempre immagini quello ma non c'ho più idee che cazzo posso fare? sono piena i poveri noi noi l'ha detto l'ha detto e che cosa è successo? Bao Bo o Jim Jimbo a quanto pare il suo scopo fondamentale era quello è l'ultima era quello di di spaventare la coppia ma a quale fine? affinché la coppia si rivolgesse a loro come poi supereroi cioè loro volevano spaventare perché questo? perché Gilbert faceva parte della polizia e anche un altro soggetto che poi si scoprirà inghibbato in tutto questo un certo Phil Cook cioè Jim pensava ma perché sono tutti questi nomi proprio americanissimi? adesso facevano un posto avendo modo di fare questi dispettucci ma avendo persone che lavoravano o lavorano in polizia magari riusciamo a insabbiare un pochino le cose o comunque quando loro si rivolgeranno effettivamente alla polizia più di quanto abbiano fatto in questo momento perché loro da giornalisti la chiamano un attimo il detective ma quelli buoni lavoreranno poi per un anno in segreto come vi ho dimostrato quelli cattivi eventualmente a quanto pare non sono arrivati in tempo per fingersi finti buoni perché loro volevano fingersi buoni aiutarli e aiutarli come? convincendo loro da chiudere il sito e soprattutto volevano il nome di Fido Master non si sa per quale motivo perché i capi alti di Ebay pensavano che Fido Master e la coppia fossero molto amici quando non si rendevano conto che era attività separate un fan X che era limitato gli hanno dato il mio nome alla fine totale tant'è che raga lo sanno questa è l'ultima puntata di Pog Alessandro sta per scontare esatto è stato bevuto settembre arriviamo alla fine settembre 2019 dove Venig si rimette dalla carica di Sio quindi nel momento in cui la coppia smette di avere informazioni dalla polizia perché nel mentre investigava e loro avevano effettivamente smesso di ricevere come si dice gli spettucci barbarie gli spettucci che poi gli spettucci è un cazzo proprio cattiverie Venig non è stato accusato di niente e il suo portavoce ha dichiarato che Venig non era assolutamente a conoscenza delle azioni intreprese il Sio dal team di Jim cioè le persone che soltanto verranno accusate saranno il team di Jim perché Weimer e Venig si diranno noi io non sento nulla abbiamo fatto quei commenti dicendo distruggiamola quel troll del cazzo perché poi sono state anche dette parole brutte di Votroll però non potevamo sapere che questo avrebbe alimentato odio ma amo ma scusami loro hanno deresponsabilizzato a Jim tutto quanto vabbè tutto partito penso con questa idea e poi Venig si prende 57 milioni di buon'uscita mentre se ne va capito noi che col TFR speriamo di vada la disoccupazione all'Inps invece morale della favola perseguitate le persone che alla fine vi ha dato pure i soldi però se avete un'azienda no tu hai dato delle idee per rendere la vita difficile a Z ma dopo ora ora cara io brillavano gli occhi non l'hai visto no no ma perché c'avevo una maschera è log language ok e tutti gli altri sono stati dichiarati colpevoli e nel 2022 Jim è stato condannato ad una pena di 5 anni definitiva e ebay soltanto nel gennaio 2024 quindi adesso ha accettato una maxi multa di 3 milioni pure da pagare che devono pagare in seguito alla sanzione da parte del giudice Josh Levy e questa è la sanzione più grande che è stata mai fatta per un caso di cyberbullismo stalking online eccetera poi rifaranno anche un altro processo perché non si accontenteranno eccetera perché dicono non può essere che delle personalità così importanti si prendono il lusso di fare cose del genere perché hanno paura che nessuno si metterebbe mai contro di loro è arrivata Ina che tristezza è arrivata Ina no poi il porelli intendevo non tanto se lo meritano palese ma pagassero anche di più il discorso è che l'azienda non andava bene hanno chiamato quello e quell'altro pure multa a 3 milioni ebay starà proprio in un momento florido della loro attività immagino altro che carta di bokemon e quindi ti posso dire possiamo farci potremmo ingegnarci pop potrebbe realizzare il documentario su questa storia e farci i milioni a voi si siete d'accordo però bisogna prendere un aereo mi sa anche perché il filo conduttore che io ti porto è che ho parlato di amazon e molto ho parlato pure di ebay quindi non è l'e-commerce e-commerce tra poco parleremo anche di le consegne di VGLS chi lo sa anche quello Sandro VGLS già lo sai è il tuo turno io sto zitta allora tocca a me e prima un sorso dalla mia tazza pop dicono che dà più energia l'acqua quando è sedimentata tipo space jam capito che c'è l'acqua ma poi c'è i numeri io approfitto di questo spot di questo spazio per parlarvi in realtà di un momento della televisione di cui si è parlato un po' tanto cioè le testate giornalistiche hanno iniziato a parlarne su internet e gira questo questa clip questo video e quindi ho detto beh che magari possiamo contribuire alla diffusione di un bel messaggio il messaggio è diffuso dalla carissima e famosissima Virginia Raffaele non vi devo immagino non devo cioè non ve la devo introdurre è iniziato da poco il suo nuovo tv show tutti i venerdì per tre puntate su Rai 1 e si chiama Colpo di Luna ma che bello totale infatti è anche una citazione perché è presa da un brano di Mina del 1961 che si chiama Boom Eye tra parentesi che è Colpo di Luna quindi così giusto per non so se vi ricordate ma Virginia Raffaele di varietà sulla Rai l'ha già fatto era sul Rai 2 e si chiamava facciamo che io ero che io ai tempi adorai e sono passati ben sette anni e felice del suo ritorno perché era un po' non la vedevamo ultimamente siete d'accordo quindi anche io mi sono un po' chiesto ci mancava esatto anche se molti dicono che abbiamo avuto la Cortellesi che è un po' la sua maestra d'arte infatti anche quello che succederà è molto in stile Paola Cortellesi devo essere onesto e che succede lei è famosissima come imitatrice ha imitato il Mezzomondo la Rodriguez la Banoni sono tantissimi la Bruzzone ma insieme insieme alla sua attività di imitatrice c'è anche quella di creatrice di personaggi uno dei suoi personaggi più famosi e storici lei crea anche personaggi tipo Macio Capatonda? si se li inventa proprio con nomi e storie a parte ma li tratta come fossero in realtà delle imitazioni cioè tu se non sai che non è un personaggio reale poco ti cambia tra i suoi personaggi più famosi inventati da lei c'è Paola Gilberto Domar che è stata presentata ai tempi di quelli che è il calcio non so se l'avete mai visto questa Paola Gilberto si io adoravo quelli che è il calcio io guardavo solo gli spezzoni con Virginia Raffaele sempre Ale che paura top si c'era proprio un canale che li caricava no ragazzi io vi giuro io so i pezzi a memoria so tutto tutto qualsiasi cosa e poi c'è anche qualche numeri calciatori a caso perché non beccavi esatto poi c'erano in mezzo in mezzo c'era l'interruzione di quello perché che ne so c'era Lazio Albino Leffe e segnava la Lazio c'era l'interruzione capito e c'era il tizio che guardava la partita che faceva e io dico ma che strana fa ma che succede Castelti Dardo lui ha cerchiato dalle gang non sa che dire fa Lazio Roma 2-1 no ragazzi è lui giuro che non seguendo il programma per intanto che durava anche un sacco di ore era lunghissimo non sapevo proprio cioè perché ogni tanto c'erano queste cose e ricordo di averlo chiesto tipo a mia madre o a mia padre ma questa è un'altra storia allora durante proprio il colpo di luna nella puntata di venerdì scorso quindi tipo il 19 se non sbaglio gennaio è stato presentato un monologo fatto da Paolo Gilberto Domar che era un personaggio della Raffaele che non vedevamo da un po' appunto ma in cosa consiste Paolo Gilberto è una poetessa transessuale proprio cioè non solo poetessa che scrive poesie cioè la sua performance il suo pezzo è lei che legge una poesia ma anche con il corpo cioè è una poetessa che ci spiega un po' come nasce l'ispirazione del pezzo ma sempre contrattironici cioè sempre si ride si ride ovvio o certamente ma è praticamente come se fosse un pezzo di slam poetry hai presente quei poeti che la leggono in maniera molto concitata anche col corpo scusami scusami non tornerò mai esatto non tornerò mai perché mai si torna performance della Brahma sì in realtà è un po' un mix tra poesia e performance art capito quelle cose così con le espressioni del corpo e di base cosa fa prende delle poesie famosissime il sabato del villaggio tutte le più importanti poesie della letteratura italiana e le rimaneggia in maniera ironica tipo la che viene dalla campagna non reca in mano un marcellin di rose di viole ma tiene in mano altro capito perché tutto comunque l'ironia principale del personaggio riguarda comunque la sfera sessuale del fatto che lei è disinibita e tra le altre cose anche trans ma a prescindere dal divertente decide nel discorso di fare un monologo invece molto più serioso sono 5 minuti circa di intervento e possiamo dividerlo in due parti la prima è un po' come te l'aspetti capisci il tema che sarà quello della discriminazione della transfobia ma si ride ma poi c'è proprio un momento in cui stacca e si inizia a parlare sul serio vado che poi invito tutti quanti a rendervi conto di quanto cazzo siano 5 minuti di monologo non è 5 5 minuti di monologo è 5 minuti sono tantissimi poi c'è anche da dire comunque si prende un sacco di pause comunque è uno show però si il monologo è molto lungo anche molto bello e anzi vi invito a riguardarlo perché sicuramente è molto più bello visto lasciamo il link se riusciamo a trovarlo qua sotto e cosa succede vi dicevo il monologo in realtà parla proprio di transfobia di come viene percepita la figura della persona trans o transgender all'interno della società e lei si fa un po' portatrice di questa voce un po' inascoltata e ha fatto tremare l'internet questa cosa perché come al solito c'è chi la ama chi adora questa esposizione queste critiche verso la society e chi invece dice oddio che panna che si parla sempre delle solite cose che noia e quindi se ne ha parlato molto proprio perché è stata un po' sopra le righe e ve lo spiego io perché è stata sopra le righe di base nella prima parte tu capisci dell'intervento capisci che si parlerà di questa cosa ma c'è un'interruzione a metà e prima dell'interruzione lei dirà proprio in un mare di luce io sono una trota in un nido di merli io sono il cuculo ci sono da prima della ruota io sono presente e sarò futuro cioè già si capisce che non stanno a parlare del niente capito però si ride pure perché una certa ti dice se ci sono esatto capito di base è un momento in cui si ride ma inizia a cantare città Anna Oxta c'è un momento un po' così divertente e viene interrotto da una voce fuori campo che è del pubblico che sembra insomma è pensata per essere spontanea che è la tua che fai Virgina diamo eh no col cazzo si sente frocio adoro silenzio ah ma fatta di proposito però sì 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 silenzio cambio luci perché dietro prima c'era dietro di lei questa la bandiera LGBT praticamente con i colori dell'arcobaleno la situazione era piuttosto felice la gente il pubblico ride interviene c'è molto movimento pausa cambio luci la Virgina stessa cambia proprio faccia cioè cambia modo in cui si muove cioè proprio da così a cosà e inizia il monologo cioè quello serio e raga ve lo giuro io ho avuto un po' i brividini perché intanto non sapevo nulla cioè sapevo che il monologo è stato chiacchierato e basta quindi l'ho visto così tranquillamente non l'ho seguito in diretta tra l'altro devo essere sincero ma alla fine cos'è la diretta posso dirti quando però è arrivato il momento di frocio che nel senso non è che c'è lo scandalo di nessuno proprio di assolutamente però comunque è Rai 1 prima serata così ho pensato cioè io sono attivo e cos hai pensato fosse vero per un attimo no 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 questo no cioè comunque no no non penso c'è anche perché nella prima parte io sapevo che il monologo era sulla transfobia lei nella prima parte del monologo dice io sono presente sarò futuro sono questo e sono io quindi avevo già intuito ma poi permettimi mentre che senti frocio non vedi persone che fanno così ma c'è un cambio luce scenografia penso magari che è stato programmato ti prego io avrei voluto che ogni volta che ho sentito frocio in vita mia e when you touch me like this capito che dietro vedete tutti voi che mi portate la scenografia io così un po' sofferente capito ma la cosa è che lei cioè si incazza proprio cioè non il momento successivo è proprio un po' arrabbiato non è solo cioè vi dico ragazzi c'è questo momento che inizia questo la seconda parte del monologo non credo di leggervela tutta ma è molto bella il finale vorrei però ci arrivo e dice proprio ed io non vedo più la realtà non vedo più la differenza tra l'essere me e la più stupida ignoranza chi mi vede diversa si crede normale e con cioè Paolo Gilberto parla in brasiliano quindi aggiunge sempre questo accento un po' forte brasiliano tipo a fine parola oppure che ne so pigmento cioè parla tutta un po' così e ti giuro l'amo mi hanno detto di tutto mi hanno chiamato animale papà e ascoltate guardami qua non sono più nascosta sono realtà quante volte hai pregato chiedendo al tuo dio che io fossi diversa che non fossi più tuo rossetto profumo le gonne più corte Gilberto perché non hai trovato la morte e tu dici madonna ti giuro ho la periglia che sto piangendo sono stata spezzata nella voglia di vita ma mi sono aggiustata mi sono capita ciò che si rompe si può riparare ciò che si odia si può imparare ad amare mi chiamo mi chiamo Paolo Gilberto Domar e sono poesia voi dite la vostra che io ho detto la mia raga ve lo giuro tutti zitti c'è benissimo ma poi detto da lei c'è un senso figurati c'è un momento di silenzio generale ma la cosa più bella che dici vabbè c'è un momento alto oggi loro Paolo a noi Gilberto esatto e poi posso dire anche non è una cosa molto originale perché è già successo ma per tutto il monologo c'è questa similitudine fra il fatto che lei tutti quanti la vogliono prosa ma lei è nata poesia e quindi è come se un'altra cosa ma non dirà mai chiaramente ero alto però posso per me a parte che in questo modo lei è resa molto più generica per cui è un discorso che può valere per la transessualità ma anche per tante altre cose nella vita e quindi mi piace perché la proprio resa proprio un concetto universalizzante bravissimi però anche il fatto che secondo me oggigiorno la contemporaneità è famosa perché sono le stesse solite storie la differenza è come le racconti secondo me la differenza di Virginia Raffaele è che non ha mosso una denuncia che non è stata magari mai sentita dappertutto però lo fa come Virginia Raffaele in questo ci sono due ragazze qui che si stanno svenando e io che ho perso il respiro e figurati tu me le hai dette con le tue parole che per quanto sono toccanti ma lei invece è ancora più toccante del sale oggi giorno è importante come vengono dette certe cose e che bello sai perché perché Virginia Raffaele almeno da quello che si sa non fa parte di quella comunità e quindi sentire una persona al di fuori che combatte per delle cose che non sono sue fa ancora più piangere e il bello poi è che la resa estemporanea come concetto ma sì infatti ma tra l'altro cioè secondo me è stato tutto molto elegante e preciso perché non è finito cioè qua finisce il suo monologo ma poi Paolo Gilberto rimane sul palco e c'è un momento musicale perché interviene Francesco Arca come ospite c'è un piccolo scambio vabbè dopodiché però arrivano dei ballerini e fanno questo momento tipo cioè lei è praticamente in full drag e c'è un lip sync totale cioè lei canta canzoni di Mina coreografie ma raga ma lei balla proprio insieme ai ballerini c'è un momento proprio ma proprio figo la nostra Arianna esatto e tra tutto c'è anche un momento in cui lei lip syncano ancora ancora di Mina però il remix di Mark Ronson non so se l'avete sentito che andava su TikTok o sbaglio ancora però cioè è uscito tipo due mesi fa una cosa del genere che vi esorto una canzone di uno chic cioè stupendo una carica erotica adoro per me è il mio rallenti quando sbattereò la testa sul lavandino perché cado nella doccia ancora quindi ecco vi prego ascoltatela datevi una chance perché è meravigliosa poi c'è Mark Ronson è un produttore con i controcazzi molto molto contemporaneo quindi potete capire e niente loro fanno questo momento baila super figo e niente raga dura in totale il suo pezzo è di dieci minuti ma vola in un secondo e niente ovvio come puoi immaginare la gente oddio ma cosa dice ma io in realtà vorrei un attimo approfittare di questa cosa per chiedere un po' se qualcuno della comunità trans vuole risponderci perché è un po' una domanda perché Paola Gilberto usa molto l'espediente del sesso in generale nei pezzi e vorrei sapere è comunque un personaggio che ha dieci anni quindi era anche un altro mondo su un altro modo di scherzare un altro modo di tante cose vorrei capire cioè lei si è comunque esposta a favore palesemente cioè parte della causa cioè di tutto quanto all'attivismo e siamo tutti felici ma vorrei sapere come è percepita però il fatto di che questo personaggio usa dei riferimenti sessuali espliciti riguardo la comunità trans perché loro combattono un po' contro lo stereotipo del dire la ragazza la persona trans non è quella che va a battere la ragazza cioè siamo altro e dobbiamo allontanarci da questo stereotipo questo non lo so se lo fa benissimo Paola Gilberto e quindi vorrei chiedere se è fastidio cioè come è percepita questa cosa posso permettermi di fare un sì innanzitutto se ci sono persone all'interno del nostro del nostro pubblico che rispondono a ciò che tu hai chiesto molto volentieri sono curioso teniamo un canale comunicativo molto aperto per questo posso fare un'affermazione oggigiorno anche si critica molto il modo in cui si combattono certe battaglie cioè non è solo importante se le combatti o meno ma anche il modo in cui le combatti per me frocio è un modo per combatterla quella battaglia ma posso capire il tuo discorso quando tu stai chiedendo l'opinione di persone che possono vivere questa tematica in maniera molto più forte rispetto a noi perché non riusciamo a interiorizzarla perché per fortuna tante difficoltà che abbiamo avuto nella vita la disforia ce l'hanno risparmiata abbiamo tanti problemi magari quella più col peso piuttosto che per altri motivi quello che dico io è molto spesso si giudica anche il modo in cui si combattono certe battaglie il mio frocio è combattere la stessa battaglia di chi magari combatte a favore della comunità per me è un togliere certe parole al possesso di chi ha voluto connotarle in un certo modo e questo perché mi rendo conto che non si può avvitare qualcuno di utilizzare una parola non è un giocattolo che tu privi abbiamo tutti la bocca abbiamo tutti la voce quindi se non posso togliertela allora faccio in modo che perda potenza perché se fosse un giocattolo te lo toglierei però questa cosa che tu dici mi piace perché per quanto Virginia Raffaele abbia fatto una cosa bellissima potrebbe aver urtato qualcuno che combatte la stessa battaglia ma con stilemi diversi porca vacca quindi non lo so è un po' la domanda che mi sono posto poi credo che anzi il pezzo sia stato fatto in modo tale da allontanare l'idea che magari Paolo Gilberto aveva attorno allo stigma del sesso capito però non lo so è una cosa che chiedo perché da fuori sede non comprendo benissimo quindi se vi va scriveteci raccontateci anche con un vocale su Instagram che ci piace esatto allora un attimo Ale dici la tua cioè dici tu ok che a ti è piaciuto dici te sì e secondo me è perché un pochetto cioè secondo me lo ricalca un po' lo stereotipo perché ti dice un po' guarda che c'ho la sorpresina fra le gambe cioè insomma la parte ironica parla cioè palesemente di quelle cose lì quindi un po' io penso beh potrebbe essere un po' fastidioso dato che stiamo cercando di combattere contro lo stereotipo della transestralizzazione come cosa sessuale basta capito però insomma non lo so demando a voi quindi che possa aver utilizzato un linguaggio troppo millennial anziché Gen Z cioè nel senso non in questo caso io parlo più delle sue vecchie performance perché in realtà da quando ha fatto cioè in quest'ultimo anno Paolo Gilberto cioè in questa situazione è stata molto più light molto più brava anche perché ha fatto un monologo del genere di che ce lamentiamo però era una cosa più che altro sul personaggio anche prima cioè nelle vecchie esibizioni poi velocissimo c'è stata anche un'altra imitazione molto molto chiacchierata di Beatrice Venezzi non so se ve la ricordate direttore d'orchestra la direttrice di orchestra sì queste erano le mie dita la direttrice d'orchestra che qualche anno fa disse che lei voleva essere chiamata direttore anticipando un po' quella che è presidente perché lei è tra ah no ok no 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 Beatrice Venezzi è una donna Cis credo anche etero e cattolica quindi praticamente quello che è Giorgia solo con qualche anno in meno è anche molto cioè di bella presenza comunque e ha parlato anche molto spesso del fatto che una professionista di bella presenza ha un po' di difficoltà perché tutti gli dicono che sta lì solo perché è bella va bene la Raffaele l'ha imitata dicendo tra le altre cose eh no mi dicono che sono professionista un po' antipatica mi dicono che sono di destra insomma ha un po' di al lato della fascistella e sta cosa ha fatto un po' incazzare tutti perché dico come vuoi che sia e a quanto pare il ministro della cultura si è un po' inalberato ma la RAI ha smentito queste cose esatto tutto questo sulla RAI esatto e a quanto pare non è vero che si è incazzato non si sa ai posti della tarda sentenza ma quella che mi interessa a me il focus di questa cosa è la risposta di Beatrice Venezzi a limitazione alla sua limitazione perché su Twitter scrive limitazione è una forma di consacrazione quindi grazie a Virginia Raffaele se poi piace o no limitazione insomma lo decide il pubblico per il resto non abboccate alla disinformazione e siccome è così Virginia Raffaele si fa sentire va contro lei non gliene frega niente io la amo anche io mi schiero e dico Beatrice a noi ci piace tanto ciao Bea Bea guarda che ti lasciamo nel paradiso terrestre andiamo avanti da soli poi in paradiso te lo dico e quindi niente volevo riportare alla luce Virginia Raffaele perché è un personaggio che va costudito perché è bravissima e tra le mille te rimane comunque Virginia Raffaele insieme a De Lodice vero solo che velocemente che momento della giornata è per te Virginia Raffaele quando ti ci senti la mattina ok quando è il momento di dare il meglio quando sei un po' una caricatura di te stesso perché la elo è di notte capito velocissimi ragazzi perché abbiamo ci siamo allungati tanto dobbiamo fare la nostra cara rubrica esatto e questa volta lo chiamiamo con la J e lo facciamo contemporaneamente pronto? jingle jingle linkami allora prima recap veloce comincia tu perché hai cominciato tu quindi ridici allora il mio recap veloce è ebay che fa la permalosa nei confronti di due tipi americani che hanno un loro sito dove danno consigli di commerce e dopo aver parlato un pochino in maniera cattivella di ebay nel corso degli anni ebay ha cominciato a fare la regina George della situazione mandando tra teste di maiali iscrizioni a siti porno e tormentando questa famiglia finché l'fbi non è intervenuta e ha scoperto che c'è stata una retata adoro io invece ho parlato come è appena successo del monologo di Virginia Raffaele durante il suo programma tv e niente riguardo la transfobia che ha fatto molto chiacchiere ma no parole chiavi le passwords allora per me c'è consegna totale consegna e per maloso regalo bagnato perché posso dire per me per me veramente è stato ma sai perché te lo dico sei ebay che te ne frega non sei pov che se due parlano male per noi è finito tutto mondo un casino quindi consegna e per maloso o per malosa dipende per malos le mie invece sono mina e poesia allora segniamoceli come sempre mina poesia per maloso e con oddio io pure dimmi tu blanco oddio 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 lo stavati pure io allora aggiungiamo rose sotto aspetta che paura sì mina perché ha fatto adesso il duetto per maloso per sanremo per maloso per sanremo consegna per le rose e poesia perché not in blanco è una poesia aspetta questa è la faccia di tizzi quando azzecca il lingame per chi ci ascolta e basta tizzi si è mostrata con una maschera un po' inquietante si è mostrata con la sua vera faccia esatto ha fatto un reveal della vera faccia comunque oh brave se vi viene a voi pure il lingame mi raccomando magari reggiamo tutti contro il gioco poi faccio schifo a sta cosa quindi aiutatemi raga blanco ma ti giuro me l'hai tolta dalle corde vocanti quindi sì la parola che unisce un po' le nostre parole che via è blanco andiamo però tutte e quattro a fanu gioca a premi dicevo da blanco allora no io stavo dicendo io Martina ci siamo già state raga io sogno è vero tizzi e marty sono state reazione a catena però ci chiamiamo proprio pov cioè quanto sarebbe top adoro ma non è massimo tre eh sono in tre infatti è massimo pericolo io faccio il vlog è massimo pericolo è notte in blanco bene il link avevi stato velocissimo perché la tizzi era nel mood soprattutto sarremese quindi top ti prego non uccidere il mood dai e quella che aveva detto il buddha a temptation island una ragazza stava cantando invece che non uccidere il mood dai ha detto ti prego non uccidere il buddha perché era una ragazza zen mamma mia ci teneva lei era zee comunque dov'è che potete con tutti e quattro noi quando è che possono rispondere a un link quando dici quando la domenica il mercoledì ma di solito perché prima diciamo dove di solito ma quando è che possono eventualmente chi ci sta guardando rispondere a un link 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 il mercoledì alle 19 e invece quando è che possono sentire le nostre storie ma anche dire le loro domingo domingo alle 3 del pomeriggio e schiediamo scusa tutta la comunità ispanica si sente offesa invece da questo spagnolo un po' risicato dove e quando scusami no l'abbiamo detto dove dove dimmi dove quando Spotify Apple Podcast Amazon Music e altri ricordiamo i social perché è importante siamo su Instagram TikTok e YouTube esatto e ricordiamo su YouTube su Is no porca vacca su Spotify di lasciarci il voto stella su Spotify ricordiamoci il voto stella e interagite perché abbiamo scoperto che le interazioni funzioni quindi se vedete la puntata inviatela alla vostra amica amata con un condividi perché le interazioni che si fanno su Spotify ci danno una mano e poi rispondi al soddaggio entro maggio e alla domanda se ti manda se ti garba la domanda e invece domanda domanda non funziona tra l'altro Paolo Gilberto Paolo Gilberto parla sempre per rime baciate quindi ogni tanto sentivo sembrava pop e ricordiamo su YouTube le interazioni che volete commentate Instagram scriveteci noi vi mandiamo un bacio perché c'è posta per noi ciao che fame commentate